Scaduto il tempo dell'appalto stradale alla Romeo e con le strade di Roma ridotte a Colabrodo si riparte dalla messa in sicurezza delle grandi arterie. Simona Burattini. Via ai lavori di messa in sicurezza delle strade della capitale. A via delle Terme di Caracalla un nuovo strato di asfalto di 5 cm è stato applicato sopra il cemento per rendere la strada più sicura. Dopo la revoca degli appalti stradali alla ditta Romeo, la città è stata divisa in 8 lotti di gestione temporanea e 8 appalti diversi. Qui siamo a via di Terme di Caracalla. Quando finiranno questi lavori? I lavori sono in fase molto avanzata. La realtà già da stasera saranno quasi terminati. Ci saranno altri interventi nella città, anche in periferia. Sono previsti interventi sulle strade principali e sulle strade consolari per rimettere in sicurezza le strade che sono state maggiormente ammalorate dagli eventi meteorologici eccezionali di questo periodo. Questa notte sono stati completati i lavori di via Druso, mentre lunedì, dalle 21 alle 5 di mattina, dal testaccio inizieranno i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza del Lungotevere. Stessa cosa a via Laurentina, nel tratto che si trova da via delle Montagne Rocciose a via dell'Umanesimo.